Una Firenze che sale e scende in una campana perfetta. Una crescita stabile negli ultimi due decenni dei residenti. Al 31 maggio sono 366.504 i residenti, secondo le fonti dell'anagrafe, il leggero aumento da inizio anno. Con lo sviluppo economico degli anni 40, dalle campagne si spostarono in città, con un fenomeno migratorio positivo, fino al 1964. Dal 1980 al 96 un crollo drastico della popolazione, con una grande fuoriuscita verso altri comuni, ma con i morti più del dopo degli ultimi anni. Un crollo che è durato fino al 2007, quando con l'immigrazione si è arrivati ad un grande lavoro dell'ufficio anagrafe che solo adesso sta facendo veramente chiarezza su quanti sono i nuovi immigrati a Firenze. In questi anni sono stati oltre 8 milioni di turisti che hanno riempito i vuoti precedenti. Un saldo naturale per la nostra città che è in decrescita, ma che varia negli ultimi anni. Dal 1975 al 2000 c'è stato un calo di 90 mila persone, mentre negli ultimi 20 anni solo 2 mila. 18 mila residenti in più nella Piana Fiorentina, 16 mila nell'Empolese, 2 mila nel Chianti. C'è stato un calo di classi fertili. Nel 1995 infatti il tasso di natalità è stato il più basso degli ultimi anni, mentre dal 1974 il dato è che ci sono più morti che nati ogni anno. Solo nell'ultimo 2375 i nuovi pargoli, 4860 i deceduti. E la pandemia è ancora in fase di valutazione. Sicuramente però Firenze è la quarta città d'Italia con la speranza di vita alla nascita più alta, dopo Siena, Perugia e Padova, prima tra le città metropolitane di tutta Italia.